Era lo scorso 16 gennaio quando scattarono i sigilli per il viadotto Puleto e Lungola e 45 per rischio collasso. Adesso ci sono 5 indagati per omessa manutenzione. Gli avvisi di garanzia sono stati inviati dalla procura di Arezzo a 4 dirigenti del dipartimento ANAS di Firenze e a un capocantiere. Si tratta di Antonio Scalamandre, Rocco Liverio, Massimo Pinelli, Mauro Petrone ed infine il capocantoniere Luigi Sestini. Per l'accusa dunque ci sarebbero stati dei ritardi nella manutenzione che avrebbero così ridotto il viadotto nelle condizioni critiche in cui era al momento del sequestro. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi proprio in queste ore aveva l'intenzione di incaricare una nuova perizia sotto forma di accertamento tecnico irripetibile riguardante la stabilità del viadotto e il suo livello di deterioramento per capire quali rischi esistano per gli automobilisti. Da qui la notifica degli avvisi di garanzia ai 5 indagati, ma il legale che li assista ha chiesto che l'accertamento si svolga sotto forma di incidente probatorio che in caso di processo avrebbe così valore di prova. Le carte sono passate nelle mani del GIPA che dovrà decidere se accogliere o meno questa istanza e in caso di parere favorevole il giudice dovrà scegliere degli esperti super partes a cui affidare la consulenza altrimenti tutto tornerà nelle mani della procura. La regione toscana inoltre ha presentato il conto dei danni subiti dal territorio della Valtiberina e Aretina a seguito della chiusura del viadotto, oltre 9 milioni la stima complessiva che sarà presentata al governo. Il tratto era stato riaperto al traffico leggero lo scorso 13 febbraio, resta ancora invece il blocco per camion e tir. Grazie a tutti.